Il dattero si chiama balah, è ancora quando è verde. Quando diventa in questo stato, quindi molto maturo, lo chiamiamo tamer. Mi stai prendendo in giro? No, anzi, perché dovrei prenderti in giro? Questo come si chiama? Tamer. Tamer. E prima cosa mi hai detto? Balah è ancora quando è verde. Balah, tamer. Il frutto magico di Rayammer. Nicolò, devo sfilettare. Segui le due righe qua sulla schiena. Nicolò, ti ho ascoltato come hai detto a Silvana di sfilettare? Vabbè, un'amica si aiuta. Vabbè, non l'hai aiutata tanto, pare che faccia tutto il contrario di quello che dovrebbe fare. In aiuto di Goku. Io sono già stato quello che voi siete. Ma non so se voi sarete, e dico a tutti, quello che io sono. L'anziano saggio Chi viene a Masterchef dovrebbe sapere le basi della cucina. Se tu non sapevi fare nulla, o non ti veniva un'idea, perché potrebbe succedere, sai cosa potevi fare? Coccia in me. Cucinavi questa bene, poi tutto il resto lo mettivi crudo. Facevi un'insalata, avevi già fatto un piatto più buono di questo. Prendi il piatto e medita il tuo posto. Sì, chef. Oh! Mi ha fatto scendere un venerdì. Cioè, stavolta la catena mi è andata giù. La catena mi è andata giù. La goccia che fa traboccare il vaso. No, no, no. Tre emeriti stronfi. Ricordatevelo bene. Impresso nella vostra mente. Bisogna che volino molto più bassi. Ve lo dico io. Volare basso fa sempre bene. Perché se cadi non ti fai male. Se voli alto fai un bel tonfo. Ciao! 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 Gohan, l'insegnante di volo. Dove è andato a finire la banana? È qui, nella crema di riso. Io non sento banana. Giuseppe, controlla sul banco di Filippo quanto banana è stato consumato. Cosa stai facendo, Conte? Stai ricostruendo la banana. Portila qui, portila qui. Vediamo cosa è rimasto della banana. La banana, io non la sento. Vediamo se lo sentono loro. Vediamo se c'è. La banana c'è. Il mistero è svelato. 3, 2, 1, stop. Via! 20 minuti, vai, parte! Atterraggio su una mech. Sei ancora con noi. Vai, vai imbaiconata. Tigre! Ruggisci. Goku mostra la sua vera forza. Io sono Gaetano Catanuso. Who? Gaetano Catanuso. L'essere perfetto. L'essere perfetto. Qui una sfida di trovare il Masterchef. Il Masterchef non sarà paleolithic. Non voglio essere visto. Niente telecamere, per favore. Ma non la vedi com'è, si è a posto? Non la vedi com'è? Lo vedi o no? Lo vedi o no? Cioè, se tu vai dal macellaio e compri una carne così, cosa gli dici al macellaio? La rabbia di Gohan. Ma scusa, mi rompo i denti qua. Devo dire la verità, me l'ha detto Carlo di farlo. Scusa, voi avete deciso di mettere i sassi dentro? Perché mi sono scritto in un rotondente. L'hai lasciato nei tutti. Sei un cretino. Un complotto contro Gohan. Scusami, per me è no. Per me è no. Anche per me è no. Per me è un sì. Per la simbadia. Grazie. Bocca a lupo. Ciao Marco. Serve un nuovo Supremo. Ciao temps. Ciao